Buonasera Andrea, buonasera degli spettatori di Onda Tg, eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'Auforisma. Stasera prima di iniziare mi viene d'obbligo fare gli auguri di buon compleanno a mia nipote Cinzia che è una delle due collaboratrici, lei e l'altra Elisabetta, l'altra nipote, che mi consentono di andare in onda perché grazie a loro che mi riprendono, che mi stanno riprendendo in questo momento. Grazie, grazie. Prego, prego, io riesco quindi a fare l'Auforisma. Auguri Cinzia. Grazie, grazie mille. Fatta questa premessa obbligatoria passiamo al proverbio. Allora, domenica, l'altro ieri e sabato si è votato, si è votato per elezioni europee, ma qui nella mia vallata, nella nostra vallata, qui nella Valle Pelini, si è votato anche in qualche paese, tra cui intro d'acqua per rinnovare il Consiglio Comunale. Premesso che io non parlo di politica e quindi se l'ho fatto qualche volta l'ho fatto perché c'era un buon motivo di farlo e questo oggi forse è la seconda volta che parlo, che tocco questo argomento, ma non per parlare di politica perché è un argomento che io non tocco in quanto sono al di fuori di questo mondo, ma voglio parlare delle elezioni a dintro d'acqua per un semplice motivo perché il sindaco uscente, un ragazzo giovane di ottima caratura, di ottime capacità, è stato riconfermato con un voto a livello plebiscitario, cioè a parte che è stata presentata solamente la sua lista, quindi non ci sono state liste che lo abbiano contrastato per cui altri hanno ritenuto opportuno non candidarsi perché evidentemente gli hanno riconosciuto un'ottima amministrazione dei cinque anni che ha fatto il sindaco. Ma poi tutto il paese è andato a votare, c'è stata una grande affluenza ai seggi, tantissimo, un'elevata percentuale di votanti e lui in questa elevata percentuale ha preso la stragrande maggioranza dei voti, quindi non ci sono stati dissensi, non ci sono stati boicottaggi, non ci sono stati controversi. Questo lo dico perché lui sta a capo di una lista civica, i cui componenti vengono da più estrazioni politiche, ecco quindi non sto parlando di politica perché io non mi schiero mai né da una parte né dall'altra, io non mi schiero mai da nessuna parte, però visto che questa è una aggregazione di diversi pensieri, quindi li raccoglio un po' tutti quanti, io ne voglio parlare perché mi piace quello che è successo, che in questo paesino dove in genere nei paesini c'è tanta rivalità, ci si confronta, la gente si accalora quando ci sono le elezioni, la gente si fa prendere un po' dall'entusiasmo, si fa prendere un po' anche da alcuni, si fanno prendere anche da un'eccessiva partecipazione, quindi si scaldano anche gli animi. Qua invece è successo che la gente è andata a votare tranquillamente e lo hanno portato a furor di popolo. Il sindaco giovane, uno dei più giovani che abbiamo, Wayne Abruz, ma confermato dopo cinque anni pieni di mandato, è l'amore, la stima, il consenso con cui è stato confermato, vuol dire che si è fatto voler bene, che ha dimostrato di essere capace ad amministrare il suo comprensorio e vuol dire che gode veramente di tanta approvazione da parte della gente. Quindi si dice a Sulmona che lo cavallo che vince non si gagne. Tradotto, il cavallo che vince non si cambia. è questo ragazzo che si chiama Cristian Colasante, con il quale ho avuto il piacere di parlare telefonicamente oggi pomeriggio, ci siamo sentiti, ci siamo fatti una bella chiacchierata. Questo ragazzo ha dimostrato a tutti che non solo è un cavallo vincente, ma è un puro sangue, è un puro sangue che ha saputo fare benissimo l'amministratore. Teniamo presente che quando cinque anni fa decise di candidarsi al sindaco, a parte che c'erano parecchie liste, quindi si scontrò con diverse persone e non fu facile essere eletto, ma il comune dintro d'acqua veniva da un commissariamento, veniva da una situazione un po' particolare, diversi dipendenti che approfittando della legge 100 se ne erano andati in pensione, quindi si sono ritrovati senza amici urbani, senza dipendenti, senza debiti. Quindi un paese che per essere un piccolo paesino stava con mille problemi. Sto ragazzo guidato da un vecchio consigliere, da uno che è stato un grande assessore per tanti anni, lo posso dire tranquillamente perché non sto facendo pubblicità a nessuno in quanto si è votato, quindi non è campagna elettorale per nessuno, guidato dal buon Ernesto De Santis che ha la memoria storica, che è un veterano, che è uno che sta lì al consiglio comunale dintro d'acqua da una vita, Ernesto quindi conosce Vite e Morte in Miracolo, e quindi guidato anche dall'esperienza di Ernesto, sto ragazzo con gli altri consiglieri, perché hanno fatto un bel gruppo, hanno portato su sto paesino e lo hanno risollevato. Oggi Intro d'acqua è un paese che non invidia le sorti di nessun altro paese della pallata, è un paesino che si sta facendo pubblicità, è un paesino che vediamo spesso in televisione a linea verde, ha questi programmi di promulgazione delle bellezze, delle bondate del posto, è un paese che organizza le sue sagre, le sue manifestazioni, sia civili che religiose, è un paese che attira i turisti, vengono tante persone, specialmente da Roma, perché noi siamo vicinissimi a Roma, è un paese che si sta facendo conoscere, eppure diciamo a livello di risorse non è un paese che naviga nel loro, però gli amministratori bravi, quindi tutto il gruppo, sono tutti cavalli vingenti, però il sindaco è il cavallo più, diciamo, è il trascinatore, è il trascinatore, ed è colui che diciamo poi c'ha carisma questo ragazzo, quindi può essere un po' il figlio di tutti coloro che hanno l'età mia a salire e può essere il fratello di tutti coloro che hanno 30 anni, cioè rappresenta due generazioni, chi lo vede come figlio, chi lo vede come fratello, ma tutti sicuramente lo vedono come amico, e io dico questo, gli sto dedicando oggi questo a furisma, perché io quando vedo i giovani che si danno da fare, i giovani che sono una certezza per il futuro, io gioisco, io gioisco, gioisco perché mi piace andare contro tendenza, mi piace a volte, non sempre andare contro tendenza, però quando vedo che si parla sempre male dei giovani, la gioventù di oggi non serve a niente, il gioventù di oggi non so come anno, il gioventù di oggi è qua, sono contento quando ci sono invece dei giovani di oggi che sono molti, sono molti, che smendiscono tutte queste voci negative e dimostrano a noi di una certa età che ci sono i giovani di oggi molti, bravi, capaci, seri, responsabili, quindi non è vero che perché ci sono quattro bulli che si vanno a briacare la notte davanti ai pub, che vanno facendo la pipì al corso o dietro ai vigori, tutti gli altri giovani sono come quelli, no, per fortuna ci sono una marea di tanti altri giovani che senza mettersi in mostra sanno invece fare i cittadini, sanno guidare gli altri cittadini, sanno prodigarsi per gli altri cittadini e questo io lo dirò sempre perché in questi miei 10 minuti, 12 minuti di aforisma non sempre sono qui per criticare le cose che non vanno ma molte volte mi piace anche sottolineare e vandare le cose che vanno e quindi faccio i miei complimenti di vero cuore a Cristian Colasanti, a questo ragazzo del quale ho conosciuto anche la mamma in chiesa l'altra domenica lì a Dentro d'Acqua, persone per bene, persone a modo e faccio i complimenti ad altri ragazzi come lui perché non è l'unico di cui sta giunto, ci sono anche altri ragazzi come lui che si danno da fare per la collettività, per il prossimo e non è poco non è poco signori che se no sembra che il mondo finisce con la generazione mia, non è vero, non deve essere così assolutamente. Cerchiamo di fare in modo che questi ragazzi giovani siano di esempio per quelli che invece si sbandano, per quelli che invece prendono le vie storte, speriamo che siano di esempio e facciano in modo che quelli che prendono via storte si rimettono su una via buona, si danno da fare, si cercano posto di lavoro e si impegnano anche loro perché io spero sempre in un futuro migliore, spero sempre in un mondo bello, sereno, tranquillo per le future generazioni. Per concludere sottolineo che sempre lì a Dentro d'Acqua durante lo spoglio, penso per le elezioni europee, sono state trovate due fette di salame nella scheda elettorale, quindi qualche buon dembone preso da uno spirito così di goliardia ha pensato di mettere il salame nella scheda elettorale. Vabbè, la cosa può far sorridere, però queste cose fidiamo di farle, non andrebbero fatte perché comunque le elezioni sono sempre un momento serio, è sempre un momento in cui si decide, ognuno decide nel suo piccolo di affidare ad altri le sorti della propria nazione, del proprio paese, della propria regione, secondo che elezioni sono, e sbeffeggiare così mettendo le fette di salame è un voto perso, nascimento semplicemente che fa ridere lì per lì ma non fa bene alla serietà del momento. Evitiamo di fare queste cose, non è mai una cosa bella, quando si fa una stupedaggia. Comunque dai, succede e va buono così, piuttosto che succedono cose peggiori. Va bene signori, buonasera e alla prossima.